Wewe ragazzi e benvenuti nelle venture Il nuovo aggiornamento di Fortnite salva il mondo comprende questa nuova zona ovvero la zona ventura ad esolazione devastata Cliccandoci avremo questa nuova mappa che a loro detta doveva essere un bioma nuovo Più o meno ritroviamo lo stesso identico bioma a cui siamo sempre stati abituati Ma insieme a questa mappa nuova compare quello che è una sorta di pass battaglia tra molte virgolette Chiamiamolo così per il momento in quanto i leaks l'avevano annunciato come un pass battaglia Ma che cos'è? Non è un pass battaglia a pagamento Ciò significa che tutti noi avremo questa sorta di livelli Questi livelli altro non faranno che darci ricompense man mano maggiori fino al livello 50 come avevamo visto da i leaks E saranno le ricompense di vario tipo dai biglietti ai lama tesori troll leggendario Ai super caricatori per le armi ragazzi È tutto racchiuso in questo piccolo pass battaglia chiamiamolo sempre così Oltre questo abbiamo anche il nostro livello che è un nuovo livello per quanto riguarda solamente questo mondo Nel momento in cui io torno nella versione principale di si salva il mondo ritorno al mio livello originale Quindi ritorniamo dentro Ovviamente si parte sempre da livello 1 Il livello massimo lo scopriremo piano piano ragazzi E per tale ragionamento ovviamente si parte dalle missioni più semplici Fino ad andare a quelle intermedie e quelle più difficili E poi andando avanti Fino a che punto? Fino al punto della pagina in carico 4 di 5 Dove ci viene chiesto di completare una missione in una zona avventura di livello di potenza 46 più Quindi chiamiamolo un po' il primo step questo qui Una volta arrivati comunque alla quarta pagina E precisamente più o meno dopo che avete preso già Dennis Quindi subito dopo Dennis ci ritroviamo comunque a dover affrontare una missione di livello potenza 46 Mentre il nostro livello più o meno ancora si aggira al livello 14 13 A me mi vedete già al 15 perché comunque ho provato ad andare avanti un pelino di più E per il momento comunque l'unico modo che ho notato per salire di livello è quello di giocare Quindi non dobbiamo stare a potenziare nulla Nei superstiti, negli eroi, nei progetti perché ovviamente non li abbiamo Abbiamo i nostri progetti delle trappole, quelli sì Però in sostanza l'unico modo per salire di livello è giocare Giocare in questo nuovo mondo assolutamente Se no i vostri punti non verranno presi in considerazione per quanto riguarda questi livelli no? Adesso passiamo un attimo all'atto pratico che ci sono un po' di cose ancora da spiegare La sfida maggiore di giocare le missioni in questo evento ma questo nella maggior parte dei nuovi eventi Comunque per quanto riguarda questa modalità alternativa Come sappiamo già bene non possiamo utilizzare le nostre armi solamente i progetti delle nostre trappole E ovviamente partendo comunque da una zona inferiore è richiesto che comunque le nostre trappole vengano craftate a un livello inferiore Poi piano piano che si avanza di zona riusciremo a trovare sempre materiali più rari Il fatto di non trovare le armi non è l'unico fattore che influisce sulla giocabilità di questa modalità Abbiamo anche l'energia azzerata che ci si rigenera ogni volta che colpiamo qualche zombie E attenzione non uccidendoli semplicemente colpendoli Adesso poi in base alle armi che troverete nella mappa utilizzerete quelle che vi capitano In sostanza comunque un'arma che spara più velocemente diciamo che vi recupera energia molto più velocemente Quindi le abilità sono usufruibili sì ma non spammabili diciamo che siamo un po' limitati Qual è il mio consiglio in questa modalità? Per il momento ragazzi in attesa comunque di scoprire altre build, altre meta che andranno comunque per la maggiore Mi sono trovato benissimo sempre con i tesori di Barba Blake Semplicemente perché il bastone per dove siamo è già fortissimo Ricordatevi che il bastone è come un'arma full perk leggendari per Katain Critico Lo troverete al livello 58 in più leggendario Diciamo che per la zona in cui andrete a giocare i tesori di Barba Blake veramente saranno veramente fortissimi Poi potrete utilizzare anche le palle di cannone, i cocchi per curarvi perché comunque andrete giù diciamo abbastanza facilmente Non avete la resistenza che avevate prima a Montespago no? Detto questo comunque ci sono anche le vending machine Se trovate un'arma che vi piace magari per Katabene con cui vi trovate bene avete anche la possibilità di ripararla Quindi soffermatevi sempre sulle vending machine anche perché magari non si sa Trovate un'arma per muovervi più velocemente nella mappa Trovate lo schianta di Higa potete trovare qualsiasi cosa ragazzi Io vi alleggo ciò che sono riuscito a trovare più o meno io ma vi assicuro che sono riuscito a trovare veramente tante tante armi Ovviamente l'importante è comunque cercare di fare quanta più esperienza possibile in tutte le missioni Ciò cosa significa ragazzi? Svolgete sempre le attività di gruppo Cioè fate le storm chest, difendete il drone, salvate i superstiti, fate gli accampamenti, esplorate tutta la mappa Fate la griglia radar, fate una difesa come si deve senza far subire troppi danni al vostro obiettivo Nel frattempo farmate pure un pochetto ragazzi perché non avrete praticamente nulla Anzi non avrete proprio nulla come abbiamo già detto Quindi dovrete un po' accumulare un po' di materiale Quindi qualsiasi cosa fate, qualsiasi obiettivo di gruppo che vi dà una ricompensa è ben accetta A maggior ragione accampamenti che danno mattone, ferro, legno Ragazzi fate qualsiasi cosa che può incrementarvi comunque le risorse disponibili nel vostro zaino È molto molto importante Non che poi ci ritroviamo comunque a dover fare una difesa e non avere i materiali per potenziare Piuttosto che rimpiazzare un muro e quindi perdere la difesa Anche perché poi comunque dovremo rilanciarci la missione dopo e riniziare da capo e farmare in più Se vi state chiedendo se esiste un deposito nel caso arrivaste a 5000 di ferro per esempio Purtroppo no ragazzi quindi dovrete continuare più o meno a fare investimenti Spendere il ferro, rifarmarlo Più o meno senza finire sempre tutto il vostro materiale Perché appunto non potete fare affidamento su nessun deposito Ci sono tantissimi obiettivi che comunque vi aiuteranno a incrementare maggiormente Non tanto quanto la ricompensa ma magari il più livello Più queste cose qui Queste in generale comunque sono le regole di salva al mondo No sappiamo che più cose facciamo più punti prendiamo e più ex facciamo Oltre comunque gli incarichi principali ci sono anche degli incarichi secondari Che potrete svolgere ripetutamente Che vi daranno comunque ricompense ulteriori Ci sono i pie delle venture Ci sono ancora tantissime cose da scoprire ragazzi Per ora restiamo comunque in attesa Questo ricordatevi che è solamente l'inizio Chiaramente dobbiamo ancora scoprire tantissime cose Comunque detto questo la modalità è veramente semplice Mi aspettavo comunque qualcosa di molto più complesso Sia perché comunque è stato annunciato in una maniera molto particolare Sia perché comunque va a cambiare delle meccaniche veramente fondamentali per salva al mondo E questa modalità secondo me mette la prova a chiunque Perché dobbiamo avere comunque la possibilità di far tutto da noi Dobbiamo farmare per noi stessi Non si può droppare quindi non si può aiutare nessuno Insomma sapete entriamo in una situazione dove mettere il riciclo sulla base Per esempio in una lobby pubblica Beh ci farà litigare con i nostri compagni La cosa secondo me bella e positiva di questo evento È che abbiamo la possibilità di giocare tutti insieme In quanto siamo comunque partiti tutti da un livello basso Siamo partiti tutti da zero allo stesso momento Quindi tra virgolette abbiamo la possibilità di giocare legalmente tutti insieme Ecco perché comunque vi invito domani nella live che si terrà su questo canale A partecipare e giocare tutti insieme Comunque per il momento non ci resta che giocare Continuare a progredire per il nostro pass battaglia Soprattutto per le ricompense che ci darà Quindi secondo me è un ottimo input che farà tornare molta gente a giocare a questa modalità E speriamo solamente che il tutto non sia troppo grindoso In quanto non ho voglia di passare troppo tempo a dover farmare per queste risorse Ce ne sono già abbastanza da fare no? Ah si quasi dimenticavo Ovviamente si possono sfruttare un po' le tecniche che già conosciamo Però sappiate che comunque le ricompense saranno un po' inferiori no? D'altra parte fate molta attenzione anche quando craftate trappole di livello inferiore Se magari hanno le perk di durevolezza per ultime Sappiate che comunque ve le crafta senza quelle perk di durevolezza E quindi dureranno molto meno in pratica Ragazzi io voglio sapere anche voi cosa ne pensate riguardo questo evento Secondo voi finisce qua O la Epic ha in riservo per noi altre sorprese Sicuramente ne vedremo delle belle secondo me in questa stagione Io comunque vi ricordo di attivare la campanella a questo canale Per non perdervi nessuna novità Se volete supportare comunque la crescita Potete inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite Ci tengo comunque a ribadire che domani ci vedremo in live Per giocare tutti quanti insieme Da Kino è tutto Bella Bella Ciao Ciao